Cosa diresti a un ragazzo come te a cui viene diagnosticato una dermatite atopica? Cosa dovrebbe fare? Come dovrebbe comportarsi? Insomma, qualche consiglio? Beh, innanzitutto può essere un problema difficile da sopportare, in particolare se decide spontaneamente di peggiorare, come spesso succede, però è importante non perdere la speranza e rivolgersi a centri specializzati, evitare il fai da te perché spesso si va incontro più a problemi che ad altro ed essere fiducioso perché in questi anni la scienza sta facendo dei passi importanti in questa mattina, cosa che non è invece avvenuto negli anni passati. Quindi l'orizzonte per noi è abbastanza buono. Grazie mille.